Teledurruti, il mercatino dove io vivo tutte le mie giornate, tutte le mie frustrazioni, diciamo le vivo qui, vengo tre volte al giorno, incontro Delia Boccardo che è stata ai miei occhi un volto straordinario che è dato 1979 nei panni della Marchesa Trigona, uno sceneggiato che raccontava diciamo le misere gesta del barone Paternò del Cugno innamorato della Contessa Trigona che poi ucciderà nel triste albergo Rebecchino a Roma e poi ci siamo ritrovati qui nel nostro quartiere anche in questo mercatino e quindi sono felice di questo. Ok, facciamoci una foto insieme? Adesso la foto la facciamo così in questo caso, come fosse una foto, grazie a ti dare un bacio. Ciao, grazie Delia, ciao, Teledurruti. Ok, ciao.